Ciao a tutti qui amico, si può il piacere se vedrai questa identità Ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ben ragazzi, vi sentite in questo nuovo video No, vecchie Bsschi Questo video sono le 5 risposte agli insulti Mi raccomando raggiungiamo i 50 like per il prossimo episodio E niente, buona visione Ma va sto ds? Ma che per 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 forza Ma che sfigato se Ehi sai com'è pensavo che mi prenderò che un linguaggio scurriere potesse urtarti gli ormoni della crescita Che bimba merda sesso Piacere mio Oh ragazzi sono stra felice perchè oggi mia mamma mi ha preso le walace E poi mi ha preso l'airmax, le squalo Quelle scarpe che ho Che cosa io ho? Di più di Tony S Tony S Tony S E invece oggi ho preso un bel cazzo francese Mezza anche spagnola Ma cosa c'entra a uno che ti ho detto prima? Ma cosa c'entra a uno che ti ho detto prima? Ma no sai com'è pensavo che stavi facendo la lista delle cose dove non me frega un cazzo scusa Eh, no guarda lo trovavo ieri sera Ma quando? E ieri sera cioè Ma quando? Ieri sera Oh ma quando? Ieri sera No ma per me che ti ho chiesto No Già no oggi ho preso 4 matematica Mia mamma ha ammazzato i poti No ma Buona ragazzi, vi venite qua, ha fatto un bel piacere su video, vi faccio il descrivere al canzone, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, abbiamo King John Office, bella ragazzi